Buonanotte Buonanotte Signor Mortara, il suo figlio Edigardo è stato battezzato con l'ordine di prenderlo Cosa? A prenderlo in che senso? Portarlo via Voglio portarselo via! Tutto è stato fatto in piena regola Secondo il diritto canonico Mi taglierò il mio testo papà Ti faranno niente Si può perdere tutto Ma non un'anima che Cristo ha conquistato con il suo sangue Questo creerà nuove tensioni Io sono il papa Solo a Dio devo rispondere La storia è andata su tutti i giornali Ha fatto il giro del mondo, è arrivata fine in America Suo figlio non è più ebreo signora È cristiano Il mio figlio è ebreo Hai battezzato mio figlio Hai battezzato mio figlio Vado a giustare Vado a giustare Vado a giustare Suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma Nooo! Questa è la tua famiglia adesso Questa è la tua famiglia